Ancora due arresti antidroga messi a segno dalla squadra mobile della polizia. Nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 18, nel corso di un mirato servizio di controllo, i poliziotti hanno fermato in via Perferiola a fondo Tocce un'auto. A bordo c'erano due italiani residenti a Verbagna, Z Pile Iniziali classe 1986 e RC classe 1989. I due, che alla vista della polizia hanno subito tradito un atteggiamento nervoso, hanno estratto da sotto il sedile una busta di carta che conteneva 10 panetti di hashish da un etto ciascuno per un totale di un chilo. La droga è stata sequestrata, i due sono stati arrestati e su disposizione del PM sono stati accompagnati ai domiciliari. L'arresto è già stato convalidato dal GIP.